Siamo alla fine del XIX secolo e abbiamo appena venduto tutte le nostre cose per iniziare una nuova vita nella lontana Argentina. Alcuni di noi fuggiti dalla povertà o sono partiti spinti dalla curiosità. Più tardi, durante la seconda guerra mondiale, molti si sono rifugiati in Argentina per sfuggire ai nazisti. Siamo alla fine del XIX secolo e la fine del XIX secolo e la fine del XIX secolo e il di questo segno di grande di questa terra e la fine del XIX secolo e il I have no home, I have nothing on this world, my goal is unknown, the blue sky is mine, and if I think that I will forever be peace. Wow, how come I am? Yeah. God damn it. Grazie a tutti. Grazie a tutti.